Per te questo è stato un anno incredibile, ti abbiamo visto vincere l'ITF qui a Napoli adesso anche qui a Napoli davanti ai tuoi tifosi avete anche ottenuto la promozione in A1 come ti senti in questo momento? Sì, mi sento contentissimo, comunque questo obiettivo lo volevamo raggiungere già dall'anno scorso purtroppo non ci siamo riusciti, quest'anno ci siamo riusciti, è stata un'emozione unica non dimenticherò mai né questa emozione né l'emozione che ho vinto a maggio a Napoli molto felice, adesso bisogna un po' goderci la vittoria Cosa ha fatto la differenza oggi durante il match di doppio che poi ha regalato il punto decisivo per il New Tennis del Greco ma anche per tutta la squadra durante il campionato? Qual è stata la cosa che vi ha fatto svoltare? Sì, penso che comunque siamo un gruppo molto unito, ci conosciamo da tanto tempo e questo secondo me ha portato a questa vittoria e poi comunque il doppio di oggi ho giocato insieme a Skukor come tutti conoscono quest'anno ha fatto ottimi risultati a livello mondiale, è molto contento e felice Se dovessi scegliere un solo momento di quest'anno, qual è l'highlight del tuo 2018? Penso la prima vittoria, comunque la vittoria personale era un obiettivo che raggiungevo sin da piccolo e comunque l'emozione comunque vincere davanti al mio pubblico è stato sempre molto bello Un desiderio per il 2019? Un desiderio di giocare le qualificazioni di un Grand Slam Spero qualificarmi e quello è l'obiettivo Grazie!